Una casa ATER trasformata quasi in una reggia e quando i carabinieri della compagnia di Pescara sono entrati per una perquisizione, oltre alla droga hanno trovato arreti di gran lusso non compatibili con la fattiscenza dello stabile sito nel quartiere Rancitelli. In manette per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i coniugi Achille di Rocco, 47enne, e la moglie Marilena Spinelli di 44 anni e il fratello di lei, Carmine Spinelli di 49 anni, tutti di etnia rom e con precedenti di polizia. I treetti di droga ritrovati dai carabinieri erano nascosti all'interno di due mobiletti. La droga una volta immessa sul mercato del pescarese avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. La cocaina quasi treetti era di elevatissima purezza e l'attività di indagine è stata condotta appunto in una casa popolare ma dal redamento non sarebbe certo sembrata tale. Come sono partite le indagini? Le indagini sono state condotte con il monitoraggio del quartiere Rancitelli. Ovviamente è una zona particolarmente attenzionata dalle forze di polizia. Parliamo di tre persone che erano già conosciute dalle forze di polizia? Sì, non sono certo e per l'età e per i loro trascorsi non sono certo degli sconosciuti. Sono in corso accertamenti patrimoniali sia sull'abitazione che sulle due auto in uso agli arrestati, una Mercedes ed una Renault Clio per un valore di oltre 70.000 euro. Sono in corso degli approfondimenti appunto per verificare la parte della casa ed eventualmente per approfondire e prendere spunto per allargare l'attività.